Il principe William e Kate, il principe e la principessa del Galles, trascorrono il Natale a Norfolk con i loro tre figli. Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Il principe George ha dato prova di notevoli doti artistiche in un disegno condiviso da Kate e dal principe William la mattina di Natale. Il bambino di 9 anni ha disegnato una renna con sopra due dolci petti rossi. Dipinse anche la neve che cade, con alcuni che finiscono sul naso dell'animale. Una scelta che rende il dipinto già accattivante ancora più commovente. Il dipinto è stato condiviso tramite l'account Twitter ufficiale del principe e della principessa di Galles. Il tweet ha mandato in delirio i fan reali, con molti complimenti al giovane reale per le sue capacità. L'utente di Twitter Courtney ha scritto, Buon Natale. Questo dipinto è assolutamente bellissimo. Ben fatto George. Stephanie Bosworth ha twittato, Buon Natale, ha sicuramente talento. Tracy Slade ha detto, È fantastico. Sarei il tuo primo cliente se fosse trasformato in una cartolina di Natale di beneficenza. Punto punto. Allo stesso modo, Barbara Parkin ha aggiunto, Grazie George, è geniale. Buon Natale con tutta la tua famiglia. Lodando il talento del secondo in fila al trono, Anna Spie ha scritto, Wow! Ha un grande talento artistico. L'occhio e la mano di un artista, bellissime opere d'arte. George è stato visto l'ultima volta in pubblico il 15 dicembre, quando si è unito ai suoi genitori, e alla principessa Charlotte o alla bazzia di Westminster, per uno speciale servizio di canto natalizio guidato da Kate Together at Christmas. Seme Hai Grazie a tutti.